E' un'iniziativa che nasce dalla constatazione della situazione nella quale versa la nostra grande Chiesa, che tra l'altro è uno dei movimenti più belli di Napoli e uno dei movimenti più belli dell'Europa. Mi sono rivolto a varie istituzioni alla ricerca di aiuti per poter restaurare ma non è stato possibile e nell'incontro con il Dettore Marrama, il direttore della Fondazione del Banco di Napoli, viene fuori questa idea di far partire una campagna di raccolta fondi proprio per provare a riaccendere questa bellezza stupenda che è patrimonio dell'umanità. Riaccendiamo il Gesù Nuovo. E' il nome del progetto di crowdfunding realizzato dalla piattaforma meridionare, con il patrocinio del Comune di Napoli, in favore della Chiesa del Gesù Nuovo, uno dei simboli del patrimonio storico, artistico, culturale e spirituale di Napoli, nonché patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO grazie al valore dei suoi tesori, come sono la straordinaria facciata in bugnato, gli affreschi delle cappelle delle più note maestranze rinascimentali e barocche, la cupola ardita e di marmi policromi. La campagna si prefigge di raggiungere un primo traguardo di 630.000 euro per il restauro dell'impianto di illuminazione della Chiesa e degli affreschi della cappella di Francesco De Geronimo. Un obiettivo scelto dai padri gesuiti, cui seguiranno altri interventi per riportare allo splendore originario i quattro secoli di arte e storia racchiusi in questo gioiello napoletano. Una pratica che condivido molto, la stiamo realizzando anche noi come Comune ed è molto bello perché c'è la partecipazione dei cittadini sui beni comuni dei nostri territori, quindi cambia il concetto che tutti insieme dobbiamo prenderci cura di ciò che dobbiamo difendere e preservare. Noi stiamo facendo il civic crowdfunding e sta andando bene perché sono i cittadini singoli che partecipano. Poi ci sono anche quelle più ampie di sponsorizzazioni con imprenditori che vogliono metterci anche risorse economiche e questa iniziativa sul Gesù Nuovo trova tutto il nostro sostegno perché questa è la direzione. In un momento storico in cui le risorse pubbliche non sono tantissime, in questo credo che sia il modo migliore, la prevalenza del bene comune rispetto al concetto di proprietà privata e fino anche di proprietà pubblica perché noi interveniamo e si interviene su beni che appartengono alla fine all'umanità, tanto è vero che noi siamo patrimonio dell'UNESCO, quindi c'è anche un dovere morale un po' da parte di tutti, di difendere ciò che è di tutti.